Come possiamo aiutare una persona che ha attacchi di panico? L'attacco di panico è un breve episodio di ansia intollerabile e ingestibile, che dura al massimo 25-30 minuti. Ma quali sono le sensazioni più comuni di un attacco di panico? Le persone che soffrono di attacchi di panico temono di poter svenire, morire, soffocare, insomma, avere una perdita di controllo. Ma qual è la sintomatologia più comune? Tremori, ipersudurazione, nausa, oppressione toracica, sentimento di smarrimento, tutte sensazioni molto simili a quelle di un infarto. Ma quindi, come possiamo aiutare una persona che sta avendo un attacco di panico? Mantenendo un atteggiamento rilassato, aiuterai l'altra persona a capire che quell'attacco di panico può essere gestito. Aiutala a spostare la sua attenzione dalle sensazioni corporee molto angoscianti che sta provando all'ambiente esterno. Aiutala a regolare il respiro. Può essere utile quella che noi chiamiamo la regola del rettangolo. Questo ci aiuta a regolare la nostra respirazione. Per quattro secondi, inspireremo. Per due secondi, tratterremo il respiro. E per i successivi quattro secondi, butteremo fuori l'aria. Espireremo. Negli ultimi due secondi, riposiamo. Così da formare con la nostra respirazione un rettangolo. È molto importante anche che tu riesca a condurlo fuori dalla folla. Per una persona che sta avendo un attacco di panico, è importante non sentirsi osservato. E sentirsi in un luogo sicuro. E certamente non sentirsi lo ha a condurlo. Grazie a tutti.